Silvi città di mare ma Silvi anche città di cultura, si possono fare benissimo queste due cose soprattutto in estate? Assolutamente sì, finalmente abbiamo inaugurato la sezione ragazzi della biblioteca di Silvi, una sezione che ha libri per tutti in realtà perché ha due sale dedicate ai ragazzi e ragazzini, cioè da 0 a 6 anni e da 6 a 15 anni, quindi un patrimonio librario per tutti questi ragazzi che vogliono avvicinarsi alla lettura e alla cultura, inoltre c'è una piccola sala dedicata anche a coloro che verranno ad accompagnare i ragazzi da 0 a 100 anni, quindi libri per tutti, inoltre la novità assoluta è il nostro biblioparco che verrà al più presto attrezzato con gazebi, con tavoli, con sedie particolari, con amaca per poter dare la possibilità a chi viene a prendere in prestito il libro tranquillamente sotto l'ombra di un albero dei nostri caripini di poter leggere tranquillamente un libro dopo il mare, nelle giornate un po' pioggiose, in qualsiasi momento avvicinarsi alla cultura è importante, partire dai giovani è importantissimo Sicuramente quella del comune di Silvi è un'iniziativa bellissima, insomma tirare fuori da una biblioteca comunale una sezione dedicata ai ragazzi e portarla qui, diciamo a quattro passi dalla spiaggia, in un'area protetta dove possono tranquillamente leggere un libro insieme ai propri genitori è sicuramente un'iniziativa lodevole tra virgolette si unisce a un'iniziativa che proprio giorni fa abbiamo lanciato noi come Regione Abruzzo che si chiama Liberi Liberi, ieri abbiamo mandato i link a tutti i comuni dove è possibile scaricarsi un libro tranquillamente da un semplice QR code e poterselo leggere in tranquillità sul proprio telefonino gratuitamente in spiaggia, nelle strutture ricettive, un po' dove uno vuole quindi è una bella iniziativa che i comuni ci dovranno dare una mano a promuovere che dà la possibilità di avvicinarsi alla cultura gratuitamente in modo semplice senza avere l'angoscia di riconsegnare il libro a tutti quelli che lo vorranno fare Una nuova offerta per l'estate abruzzese? Assolutamente sì, che va a completare l'offerta già ricca del patrimonio turistico abruzzese Grazie a tutti